Ruggi e mi conosci, tu sai quando secco e quando mi alzo, tu mi hai formato nelle viscere di mia madre, tutta la mia vita tu la conosci e un richiamo che ci fa il Signore a riflettere su di noi, noi siamo un femmino in prodigio, ciascuno di noi siamo oggetto dall'amore di Dio, affiniamoci a Dio nostro Padre e camminiamo davanti a Lui, Lui ci ha chiamato alla vita, Lui ci ha chiamato alla razza, e Lui ci chiamerà alla gloria, così noi speriamo, perché ci ama, ci ama lungo il nostro cammino, giorno per giorno, per farsi ascoltare la Sua parola, perché è la Sua parola che illumina tracci il nostro sentiero e ci sostiene nel nostro cammino. Allora le orecchie aperte alla parola del Signore, il quale ci ricorda i Suoi comandamenti, i quali non sono comandamenti che Lui fa per imporci il suo volere, quanto comandamenti che ci servono per vivere bene la nostra vocazione di figlie. Osserviamo tutte le sue parole, quelle che Egli ci ha indicato e quelle che ci indico ogni giorno e ci ricorda ogni giorno, e camminiamo sempre alla Sua presenza, fino al momento in cui Egli ci chiamerà alla Sua gloria. Intanto cantiamo al Signore, benediciamo il Signore questa sera, perché la vocazione di tutti è alla preghiera, ci vedo dare e benedire Dio. Alleluia.